Per la prima volta qui a questo summit, only per i consulenti indipendenti qui a Verona, si è trovato di fronte a una platea di professionisti in questo settore. Che feedback ci può dare? Che impressioni ci può dare? Ma c'è molto parallelismo tra il mondo del lavoro, nello specifico della consulenza indipendente, e lo sport, nello specifico della palacanese. Tendo a dire che è determinante prefissare un obiettivo che sia chiaramente reale, soprattutto però condiviso da ogni singolo appartenente al gruppo squadra. È importante stare dentro alle regole, avere delle regole ben precise attraverso le quali costruire poi le relazioni, sia sociali sia tecniche, all'interno sempre dei mondi, dei mondi tecnici, dei mondi sportivi. È importante avere la condivisione delle regole, degli obiettivi, è tantissimo importante avere la condivisione anche delle modalità, della strategia attraverso le quali poi si raggiungono gli obiettivi. Quindi l'importanza del capobranco che indica l'obiettivo, che indica soprattutto la strada e le strategie per ottenerlo, è che vigila chiaramente sulle regole di tutti. È importante che ci sia un comune senso del sacrificio e quindi andare sempre oltre quello che è il proprio sforzo, ma cercare poi insieme con gli altri di raggiungere, di aumentare sempre la mole di lavoro attraverso la quale poi si va a innescare anche la qualità del lavoro stesso e di conseguenza poi si alza l'asticella della propria performance. Ecco, credo che ci siano tanti punti in comune, credo che questi poi siano determinanti e i più importanti, ma che a cascata vanno a produrre tutto ciò che è l'assemblaggio di un lavoro di squadra, di un risultato e un obiettivo raggiunto di squadra.